L'albarello o alberello usato nelle antiche farmacie è un recipiente per lo più in terracotta imbetriata o smaltata a parete cilindrica, il cui profilo è sovente concavo per favorirne la presa. Presenta un collo piuttosto breve con un bocca larga provvista di un robusto orlo a gettante che permette di tappare validamente il vaso mediante un lembo di pergamena. Era destinato a contenere sostanze solide e semisolide come sali, droghe, vegetali, unguenti, miele, frutta candita. L'albarello è un'originale creazione dei ceramisti musulmani che fu accolta con molto favore in Europa dove entrò nell'uso nel XIV secolo. La più antica testimonianza letteraria in Italia di questo vaso sembra quella del Decamerone.